Altavale Seriano inaugurato il sentiero dei sapori vince il concorso promosso tra gli studenti Zahara Ocic una ragazza delle scuole medi di Artesio. L'overe 30 laboratori un concerto una cena di solidarietà e la formula della due giorni di festa di fine anno presso l'istituto comprensivo. Da Gazzaniga la guida del vicariato di Nunciatelle promosso sul campo il cappellano dei missionari nella cittadina svizzera Don Pietro Guerini originario di Gazzaniga. Buonasera e ben ritrovati con il telegiornale di Antena 2. Questa mattina d'Ardesio è stato inaugurato il sentiero dei sapori tracciato di 64 chilometri che oltre a mettere in mostra le bellezze dell'Alta Valle Seriana mira a promuovere anche i sapori del territorio. Il sentiero è stato aperto da nove atleti che lo hanno percorso in staffetta. Questa mattina sono stati inoltre premiati i ragazzi che hanno preso parte al concorso con il quale è stato individuato il logo del sentiero. È stato scelto il disegno di una ragazza di Ardesio, Zara Ocic. Primo posto, Ardesio. Vince il logo, il disegno numero 32, Ucic Zara. Buonasera. 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 Bravissimi tutti. Possiamo dire che quando i comuni chiamano l'Istituto Comprensivo di Gromo risponde? Assolutamente sì. È una caratteristica del nostro istituto comprensivo. Noi vogliamo legare il più possibile i ragazzi al territorio, alla vita che si fa all'interno di questi piccoli centri perché crediamo che sia importantissimo che loro siano i protagonisti, anche se sono giovani. Quindi queste iniziative ci danno la possibilità di farli partecipare e quindi di prendere passione, ecco mi permetta questa, passione al territorio. Su questo poi con questa passione si può per esempio affrontare anche le difficoltà che inevitabilmente ci sono perché non abbiamo delle grosse risorse, però i ragazzi devono appassionarsi e attraverso queste attività ci tengono molto perché poi non è una solo questa ma anche altre iniziative che i vari comuni, le proloco ci presentano e noi cerchiamo sempre di essere così partecipi naturalmente con i numeri di ragazzi che abbiamo, ecco non abbiamo degli istituti grossissimi, però devo dire che le iniziative a cui partecipiamo sono davvero interessanti e numerose. Tra l'altro bisogna sottolineare che in questo caso i primi tre premiati rappresentano i tre plessi della scuola media, quindi poi alla fine tutta la scuola è stata coinvolta fino in fondo. Assolutamente e mi creda, è stata una cosa, una sorpresa, non lo immaginavamo. Mi fa molto piacere che tutta la scuola sia rappresentata ed è giusto così perché tutti devono avere il giusto riconoscimento, ma è stata una cosa fortuita, mi fa però molto piacere. Bravi ragazzi, bravi, bravi, bravi. Due degli atleti, forse i più conosciuti, che hanno compiuto oggi, bisognerebbe dire questa notte perché il primo è partito molto presto, il nuovo sentiero dei sapori, anzitutto che tratto avete percorso? Io ho fatto la settima tappa dalla chiesa di Boario, comune di Gromo, fino qui a Ardesio. Era un tratto facile come percorso, però molto caratteristico e impegnativo perché ci sono vari strapiombi, però c'è una visuale bellissima sull'abitato di Ardesio e Gromo e la valle lì dove c'è il Ponte Nuovo. È un percorso che anch'io l'ho fatto poche volte, non è tanto conosciuto, è selvaggio, però bello, il consorzio l'ha sistemato bene, non c'è nessun pericolo e è stato bello. Una bella esperienza. Sì, sì, tutto il giro è un bellissimo percorso, soprattutto perché sfiora tutti i paesi, è facile, lo possono fare le famiglie, lo può fare chi si allena, ma anche chi cammina e per fare una bella giornata nella natura è il top. Che tratto hai fatto e come l'hai trovato? Io ho fatto il secondo tratto che sono partito dai marinoni di Ardesio e sono arrivato alla ripa di Gromo passando tutto il tratto di Valgoglio e ho fatto un bel tratto, sono delle muratiere classiche dove sono sentieri che uso per allenarmi, li conoscevo già, sono ben tenuti e è stato un bel percorso perché passare anche nella contrada di Bani, Novazza, con la rete, Gromo nel centro storico e poi sono andato alla ripa e soprattutto perché è stata una bella esperienza perché sono partito alle 4 di notte col frontalino e è stato bello, abbiamo preso bel tempo e spero che adesso la gente dopo questa inaugurazione passi questi percorsi e si diverta come noi. Questa mattina i bambini delle scuole elementari di Rovetta sono stati impegnati in una mattinata con gli operatori dell'antincendio boschivo. Questa oggi è una bella mattinata con i bimbi. Ottimo, la giornata è bellissima, stupenda, abbiamo fatto una bella passeggiata delle scuole, sono arrivati fino qua a Laghetto e adesso siamo qua. Abbiamo messo le piantine di moro, un centinaio di piantine, sono state messe dalle prime, dalle seconde, aiutate da quelli della quinta e terza elementare. Poi abbiamo simulato un incendio che viene spento da alcuni alunni delle quinte elementare con la tuta dell'antincendio però una semituta sul casco in modo di essere in sicurezza che poi hanno proceduto a spegnere l'incendio, simulato un incendio. Ecco, ricordiamo la squadra antincendio boschivo di Rovetta, quante persone comprende? Allora, attualmente al database della regione siamo in 32 persone. Siamo sul territorio, quest'anno è il ventottesimo anno, quale alle mie spalle abbiamo l'imboschimento fatto circa 22 anni fa per la prima volta, abbiamo gli alberi e qua tempo facile, qua solo un ghiaione, il famoso ghiaione delle borlezze, poi è stato fatto una ripiena e poi sopra noi abbiamo piantumato. E vedete la differenza che c'è da un ghiaione e quello che troviamo adesso. Forse magari alcuni avrebbero preferito avere il ghiaione, magari per far divertire certe persone, io invece preferisco avere qua le piante, proprio perché le piante ci aiutano anche con l'ossigeno e tutto. Ecco, questa è una bella occasione anche per valorizzare questa località di Rovetta. Sì, questa è una locale, l'Isola Felice è stata recuperata ormai molti anni fa dalla squadra d'antincendio che ha sempre avuto cuore questo angolo di paese. Siamo ai confini di Cusone, siamo l'imbocco della località delle borlezze ed è un ambiente molto bello, molto caratteristico ed è molto utilizzato anche per aspetti ricreativi di famiglie che si fermano, vengono a fare la passeggiata, a fare il picnic. Ultimamente siamo riusciti a fare, grazie all'intervento della comunità montana, anche il sottopasso sotto la strada provinciale che consente quindi un attraversamento in assoluta sicurezza della strada provinciale che era un po' il limite grosso della fruibilità di quest'area. Sono ormai moltissimi anni che l'antincendio, con alcune pause di alcuni anni, fanno la festa dell'albero qui e questo ha consentito un recupero ambientale molto interessante. Chi si ricorda anni fa come era la zona, era un ghiaione ed era assolutamente inaccessibile, inutilizzabile. Anno dopo anno, ora sono passati diversi decenni, abbiamo un ambiente molto più bello e fruibile. Trenta laboratori, un concerto, una cena di solidarietà è la formula della due giorni di festa di fine anno presso l'Istituto Comprensivo di Rovere. Tutti insieme per festeggiare. Esatto, a dire il vero abbiamo iniziato ieri sera con qualcosa come quasi 300 coperti per uno spiedo di beneficenza che abbiamo realizzato all'interno della scuola con dei fantastici genitori volontari che hanno cucinato uno spiedo super ottimo e devo dire che era un'atmosfera magica accompagnata poi dall'esperta dello yoga della risata che ci ha permesso di aprire lo stomaco prima della cena e invece l'intrattenimento musicale è stato ad opera della Luda Heavens e che ringrazio fortemente per aver colorato in maniera magica la serata. Questa mattina un concerto, laboratori, uno spazio anche per gustare a qualche piatto, insomma tante cose. Davvero tante cose. Questo è il frutto di quattro mesi di intenso lavoro dove il Comitato Genitori ha realizzato un evento in cui crede veramente tanto tutti gli anni e in cui i protagonisti sono proprio gli alunni dell'istituto comprensivo. La bellezza di 500 alunni dalle infanze di Castro Lovere, la scuola primaria di Lovere e la scuola secondaria sempre di Lovere. Una trentina di laboratori sono stati attivati. Esattamente, grazie alla partecipazione di ben 21 associazioni sportive e ricreative del nostro territorio riusciamo a realizzare fra mattino e pomeriggio qualcosa come 30 laboratori. I laboratori spaziano dal canottaggio in canottieri Sebino, la vela giù a Lavas, tennis da tennis sport Lovere, poi abbiamo il nuoto al presso le piscine di Lovere, la danza classica con il circolo di danza del circolo Lucchini, poi abbiamo delle attività manipolative, creative, lo spazio alle emozioni, quindi il progetto Leonardo, un giocoliere per i più piccolini, la psicomotricità, veramente tantissime e tantissime altre attività che non ho qui menzionato. Una bella giornata questa. Sì, per fortuna anche il meteo è dalla nostra parte, abbiamo quindi la possibilità di esprimere al meglio ciò che il nostro comitato genitori da anni organizza con enorme successo, a favore proprio di progetti da realizzare nel corso del successivo anno scolastico a favore di tutti i nostri ragazzi, dalla scuola dell'infanzia alla scuola secondaria di primo grado. Ecco, sappiamo che l'istituto comprensivo di Lovere durante l'anno, ma come anche negli anni scorsi, ha raccolto numerosi successi. Assolutamente sì, in diversi ambiti. Partiamo dal poster per la pace in collaborazione con i Lions Club di Lovere, dove uno dei nostri alunni della scuola secondaria di primo grado, in seconda B, Giacomo Beguini, ha raggiunto addirittura il primo posto a livello distrittuale e il suo disegno è arrivato a Roma per la selezione nazionale e quindi per poter accedere a quella internazionale. Abbiamo poi la manifestazione di inclusione insieme con Trasporto, che è arrivata alla sua diciassettesima edizione e che quest'anno ha visto la classe seconda della scuola secondaria vincere il primo premio per il video più inclusivo nei riguardi proprio del compagno diversamente abile. Poi ancora abbiamo partecipato al progetto in rete, l'eco delle note nascoste, con altre scuole del territorio, Sovere, Tavernola, Costa Volpino, Adrara e la serata poi si era conclusa con il concerto di Irene Grandi, anche questo grandissimo successo. E non ultimo, non dimentichiamo, il nostro bellissimo gruppo dell'orchestra che quest'anno si è classificato al primo posto al concorso di Vescovato e che oggi appunto presenterà uno dei due brani che hanno partecipato a questo concorso. Questo a dimostrazione del fatto che all'interno del nostro istituto si lavora per la valorizzazione delle eccellenze, non soltanto nel campo delle discipline tra virgolette classiche, ma anche in tutti gli altri linguaggi che aiutano i nostri ragazzi a crescere in modo equilibrato, divenendo dei cittadini futuri di un certo spessore. Restiamo sempre nell'ambito delle feste di fine anno scolastico. Questa mattina i ragazzi delle Medi di Rovetta hanno inaugurato una mostra con tutti gli elaborati realizzati sui cinque progetti, eventi come tema legalità, alimentazione, affettività, ambiente e dipendenze. E la festa è poi continuata al parco con un concerto con i ragazzi, la musica del gruppo di coetanei Wide Wolves. Questa mattina nell'ambito della festa di fine anno sono state organizzate diverse iniziative. Partiamo dalla mostra all'istituto dell'Atrio delle Scuole Medie. La mostra che avete visto nell'Atrio della Scuola Medie è stata la conclusione di un lavoro fatto nel progetto di educazione alla salute e sono stati presentati tutti i lavori che i ragazzi hanno fatto, sia di prima che di seconda che di terza. Erano cinque progetti, uno sulla legalità, l'affettività, l'alimentazione, l'ambiente e la prevenzione delle dipendenze. Tutti gli insegnanti ci hanno lavorato, sia a Rovetta che a Castione. Hanno lavorato anche con l'aiuto di esperti. Sono venuti tra di noi sia gli agenti della polizia, per parlare di legalità, sia il gruppo GECO per parlare di ambiente, poi gli psicologi della comunità promozione umana che siamo andati anche a visitare con i ragazzi delle terze e andremo la settimana prossima alla comunità del biliardo a Castione. Avete ottenuto anche un riconoscimento? Sì, abbiamo vinto il primo premio del concorso Fotocontest investigatori green. Si dovevano fotografare ambienti degradati o ambienti dove c'erano problemi di ecologia e i ragazzi hanno fatto delle foto e abbiamo vinto con la foto doppia vergogna. Questo era un concorso promosso da GECO. Per il secondo anno abbiamo avuto la collaborazione dello scrittore poliziotto Maurizio Lorenzi che è venuto a parlare di legalità con i ragazzi e della figura dell'eroe. I nostri ragazzi hanno fatto composizione, disegni, poesie, canzoni, temi riguardanti il loro vero eroe, l'eroe della fantasia o l'eroe vero e proprio nella realtà. E hanno fatto questo concorso. Lunedì Maurizio Lorenzi verrà a fare la premiazione a scuola dei primi otto sia nella scuola di Rovetta che di Castione. E poi siete stati anche al parco e avete trovato dei buoni motivi per stare insieme. Sul palco si sono esibiti i nostri ragazzi delle terze e il complesso dei Wild Wolf che è il compresso rock della nostra scuola. Ci fermiamo per una breve interruzione tra poco. Rieccoci in onda con il telegiornale di Antena 2. A tre mesi dalla nascita a Clusone, l'associazione Clusone Centro promuove un incontro pubblico nel quale sottoporre un primo bilancio di quanto fatto. La riunione è fissata per martedì 31 maggio alle ore 20.30 presso la Sala Legrenzi. Tra i diversi punti all'ordine del giorno saranno discusse nuove proposte legate alla ZTL, all'isola pedonale e i nuovi orari di apertura dei negozi, oltre che al rilancio del centro storico. Don Pietro Guerini, sacerdote nato a Gazzeniga nel 1969 e dal 2012 cappellano dei migranti in Svizzera a Nuschatel, è stato nominato vicario episcopale del cantone. Spiega l'importanza e il significato di questa nomina Monsignor Giacomo Panfilo in passato cappellano dei migranti proprio a Nuschatel. La settimana scorsa ho voluto scrivere a Nuschatel per un problema al missionario di Nuschatel che è mio successore e quello mi risponde dicendo prega per me perché ho ricevuto un nuovo incarico e mi aveva messo dentro nella posta elettronica un'indicazione da cercare in internet. Lì ho cercato e ho visto con sorpresa che è stato nominato vicario episcopale del cantone di Nuschatel. Io l'ho trovato una notizia forte e allora ho voluto farlo sapere al parroco di Gazzeniga perché Don Pietro è di Gazzeniga e lui ha voluto sapere in che cosa consiste e lo spiego. Allora in Svizzera le diocesi sono da considerare non come la nostra, le nostre diocesi in Italia sono una realtà unitaria e praticamente indivisibile, ha degli uffici centrali e basta. Mentre in Svizzera prevale il cantone, la Svizzera è una confederazione di cantoni e i cantoni sono degli stati, perciò la rilevanza del cantone influisce anche sulla diocesi e la diocesi quindi, per esempio quella di Friburgo, Losanna e Ginevra, è divisa in quattro cantoni e ogni cantone è in un certo senso distinto dagli altri anche come organizzazione ecclesiastica per cui c'è un vicario episcopale in ogni cantone. La diocesi ha anche lei, anche là gli uffici centrali come l'ufficio catechistico, l'ufficio liturgico, l'ufficio missionario, là ogni cantone ce l'ha. Allora il vicario episcopale del cantone ha funzioni come ha da noi il vicario generale per tutta la diocesi e dopo il vescovo viene il vicario episcopale a Neuchatel, tutte le realtà ecclesiali fanno capo al vicario episcopale. Dal primo settembre faranno capo a Don Pietro, il quale rimane ancora missionario degli italiani di Neuchatel. Ma in più adesso avrà questo incarico per tutta la chiesa neocastellana. Quindi c'è l'ufficio catechistico del cantone, l'ufficio liturgico, l'ufficio missionario del cantone, le riunioni dei preti sono fatte a livello cantonale e anche gli spostamenti dei preti sono fatti normalmente a livello cantonale. Poi per la mancanza dei preti vengono presi anche preti dagli altri cantoni. Però, ecco, quindi secondo me la nomina di Don Pietro Guerini a vicario episcopale di Neuchatel è una cosa importante. Si noti che è il primo straniero ad avere una carica di questo genere. Grazie a tutti. E ora continuiamo con le previsioni del tempo, le temperature di questi ultimi giorni ci hanno permesso di assaggiare un po' di estate, ma la situazione purtroppo è destinata a cambiare. Buonasera a tutti e ben ritrovati con l'appuntamento Meteo di Antenna 2. Sembrava in questi giorni che l'estate si fosse affermata sul nostro territorio. Infatti anche nella giornata di oggi abbiamo avuto temperature più che primaverile. Pensate, con punte di 30 gradi a Bergamo e 25-26 gradi nella città di Clusone. Ma ecco che la primavera sembra proprio giocarci un brutto scherzo. Infatti questa parentesi estiva è destinata a chiudersi e si chiuderà bruscamente. Questo per merito di un'irruzione di aria fredda direttamente dalle isole britanniche che scenderà proprio in direzione del Mar Ligure e formerà una circolazione depressionaria nella giornata di domani. E vedete che ho indicato tutte le città del nord Italia interessate proprio da un evento temporellesco particolarmente intenso. Infatti già dalla mattinata di domani, di domenica, ci attende purtroppo una fase di maltempo piuttosto intensa, con temporali localmente di forte intensità e accompagnati da grandinate talora di media entità e forti raffiche di vento. Questo proprio sarà appunto un forte e brusco interruzione a questa parentesi estiva. Ma come andrà poi nel corso della settimana? Vedete come l'anticiclone delle Azzorre sarà schiacciato proprio verso il Nord Africa e questo favorirà sempre infiltrazioni di aria fresca proprio in direzione delle nostre regioni, soprattutto settentrionali dell'Italia, per cui sul nostro territorio aerobico avremo una variabilità in un contesto, comunque sprettamente primaverile, con possibilità anche di piovasche temporali un po' per tutta la settimana. Quindi dovremo sempre tenere a portata di mano l'ombrello e soprattutto le temperature tenderanno gradualmente a diminuire. Ma andiamo all'evoluzione del tempo per la giornata di domani. Ho detto massima attenzione perché arriveranno queste ondate temporalesche talora di forte intensità e dove colpiranno saranno accompagnati da grandinate. Il nostro territorio vedrà appunto temporali di forte intensità soprattutto nella prima mattinata di domani con locali grandinate, un brusco calo delle temperature, uno zero termico che nelle ore centrali della giornata si abbasserà a 2600-2800 metri di altitudine. Quindi sui nostri rilievi aerobici oltre i 2500 metri di altitudine torneranno anche i fiocchi di neve. Quindi pensate da oggi che è stata una giornata decisamente estiva, passeremo bruscamente a una giornata tipicamente primaverile. Ecco, massima attenzione a coloro i quali faranno attività all'aperto nella giornata di domani perché anche sui laghi, soprattutto il lago di Iseo, soffieranno delle forti raffiche di vento e anche in Valle Camonica ci attendiamo purtroppo delle grandinate localmente di forte intensità. Quindi massima attenzione. Andiamo all'evoluzione del tempo per la settimana che vede, ripeto, infiltrazioni di aria fresca. Cosa vuol dire? Che quando entra dell'aria fresca, specie in questo periodo estivo, l'instabilità è padrona sul nostro territorio. Quindi nella giornata di lunedì saranno ancora i temporali, seppur meno intensi e meno diffusi, ma comunque probabili sul nostro territorio. Vedete le temperature, pensate, a Clusone 12 gradi di minima è la massima che faticherà ad andare oltre i 17 gradi. Martedì, mercoledì e giovedì sembra un po' la fotocopia della giornata di lunedì, quindi non cambierà molto. Diciamo che avremo prevalenza di nubi alternate a schiarite, quindi ci sarà anche la possibilità di qualche locale apertura, ma attenzione sempre ombrello a portata di mano perché gli scrosci e i temporali saranno specie nelle ore centrali della giornata e soprattutto nella zona della medio-alta Valle Seriana ed anche nella zona della Val Camonica, molto molto probabili. Zero termico intorno ai 2.900 metri di altitudine, temperature che lievemente tenderanno ad aumentare, ma sicuramente non andranno oltre i 20 gradi. Che dire? Per il ponte del 2 giugno ci aspetta ancora una variabilità. Intendo dire che non farà brutto tempo assolutamente, saremo comunque in un contesto prettamente primaverile con questa alternanza di nube schiarite, però sui nostri territori, soprattutto i nostri territori montuosi delle Orobie, sicuramente ci sarà la probabilità nel corso della giornata e nelle ore centrali della giornata proprio di locali piovaschi e occasionali temporali e così continuerà almeno fino a domenica. E per il Meteo è tutto, vi aspetto sempre qui sabato prossimo su Antenna 2. Ci fermiamo per una breve interruzione, tra poco. Torniamo in onda con il telegiornale di Antenna 2 e continuiamo con la programmazione televisiva. Questa sera sul canale 88 alle ore 20.10 trasmetteremo A Casa dello Chef, alle 20.30 il Rotocalco, alle 20.50 oltre confine trasmissione con Giacomo Ferrari che questa settimana si è occupato dell'apparizione di Ponte Nossa, alle 22.10 trasmetteremo Salus TV, alle 22.30 la seconda edizione del nostro telegiornale, alle 23.20 Maio Nobiscum e alla mezzanotte e mezza la terza ed ultima edizione del nostro notiziario. Il telegiornale di Antenna 2 sarà riproposto anche alle ore 21.30 ma sul canale al numero 218 delle Digitale Terrestre, sul quale alle 22.30 trasmetteremo Pianeta Salute. Sul canale sportivo al numero 628, alle 20.30 trasmetteremo una partita del campionato provinciale Boccette, Leon Bar 1, Bar Bopo 2, mentre alle 23.00 una gara di corsa su strada del circuito Fosso Bergamasco e in particolare si tratta della corsa che si è tenuta a Carobbio degli Angeli. Nel Manacco, domenica 29 maggio, il sole sorge alle 5.29 e tramonta alle 21.06, il cumine del giorno è alle ore 13.18, la luna invece sorge alle 1.45 e tramonta alle 12.55. La fase lunare luna attraversa la fase dell'ultimo quarto ed è visibile al 54%. E siamo giunti al termine di questo appuntamento con l'informazione di Antenna 2. Noi vi ringraziamo per la vostra attenzione e vi auguriamo un buon proseguimento di serata. Grazie a tutti.